Noi dobbiamo sempre vedere quello che dice il campo, abbiamo solo fatto una partita e quindi vedremo. Gli sviluppi, diciamo, a queste cose vengono date dal campo, viene dato dal campo e quindi vedremo. Sicuramente la rosa del Bari o della Ternana sono cose importanti, hanno anche tanti giocatori esperti, tanti cambi, quindi io non dico che noi siamo al loro livello o non siamo al loro livello, questo sarà il campo. Sulla carta sicuramente loro sono favoriti rispetto a noi, questo è in dubbio, sulla carta però c'è il campo che può capovolgere il tutto ma può confermare il tutto. In riferimento al fatto che dipende anche in che condizioni trovi gli avversari, oggi naturalmente la Ternana è una squadra che vince fuori casa, 3-0, gioca bene, riprende a far giocare giocatori importanti, quindi rientrano da infortuni, giocatori importanti come Mammarella, rientra a pieno regime Falletti, quindi sono squadre piene di talento e dobbiamo veramente stare attenti. È naturale che noi, ripeto come ho detto prima, dobbiamo cercare di andare lì e metterli in grandi difficoltà, sapendo che sarà una partita complicata. Il discorso di giocare con tutte è naturale, prima o dopo dobbiamo giocare con tutte però. A volte dico che i tempi possono essere determinanti per quanto riguarda le squadre che incontri, nella forma fisica, eventuali infortuni, squalifiche, oppure l'appagamento di obiettivi raggiunti può essere determinante per una partita. Per quanto riguarda se sono deluso dal mercato, ti dico che comunque la maggior parte delle cose che dobbiamo fare sono state fatte, come ho detto prima, manca qualcosina, ma lo sapevamo, lo sa anche la società, però vi dico anche che non è semplice andare a prendere giocatori per il nostro gruppo, che vengono a Palermo con grandissimo entusiasmo, non è facile, nonostante gli sforzi che si stanno facendo. Quindi sicuramente, come ho detto prima, manca qualcosina, lo sa anche la società, però ripeto, come ho detto già almeno dieci volte oggi, da quel punto di vista, in quel ruolo che ho già citato prima, si sta lavorando. Si fa il Palermo, che loro, se l'avessimo incontrati in un campionato di Serie B o di Serie A, dove entrambe le squadre potrebbero tranquillamente stare per seguito, per tradizione, per forza economica delle società e tutto, sarebbe un conto. Invece oggi il Palermo, con quello che ha passato due anni fa, è una squadra che l'anno scorso disputava il campionato di Serie D e quindi viene a Terni con la mentalità giusta. Sicuramente non ci prenderà, diciamo, non penserà che sia una partita semplice, e quindi verranno con la giusta motivazione, con la giusta determinazione. Per loro comunque, anche se in passato hanno fatto campionati di categoria superiore, ma ovviamente oggi non è così, arrivano da un anno di Serie D, quindi per loro venire a Terni a giocare una partita comunque gli darà sicuramente grandi motivazioni. A tempo stesso noi dobbiamo aspettarci quello che ci aspettava probabilmente sabato, ma che invece siamo stati bravi, che invece di essere aggrediti siamo andati subito a aggredire noi dal secondo secondo del primo tempo.